Queste sono le nostre costine di maiale cotte a bassa temperatura con la salsa a barbecue. Vieni a vedere insieme a noi come le prepariamo. Adesso andiamo a mettere le nostre spezie. Adesso andiamo a fare uno strato di senape al miele e salsa a barbecue. Andiamo a mischiare. E adesso le andiamo a massaggiare con la nostra salsa. Ripeto, senape al miele e salsa a barbecue. Adesso che l'abbiamo marinata le andiamo a mettere dentro i nostri sacchi di sottovuoto. Ci mettiamo pure un po' di salsa. Adesso che l'abbiamo messa in sottovuoto la lasciamo marinare 2-3 giorni. E poi vi faccio vedere la cottura. Passati 2-3 giorni andiamo a mettere le nostre costine con la nostra impostazione a bassa temperatura. Costine a bassa temperatura, 100% di umidità, 75 gradi di camera. E parte la cottura e ci vediamo fra 12 ore. Adesso da scorse le 12 ore andiamo a prendere le nostre costine. Cotte a bassa temperatura ovviamente. E le andiamo a porzionare. Adesso andiamo ad aprire la nostra busta. Andiamo a prendere le nostre costine. E andiamo a porzionare le nostre costine. Queste sono le nostre costine in salsa a barbecue. Vieni a provarle qui al ristorante Vulcano. Ciao. Ciao. Grazie.